Dove chi ha il prime, chi si sub sul mio canale, ha pure un allenamento personalizzato creato da me Buono, 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 let's go Non lo so ragazzi, troppe domande su cosa mi... cioè dipende da te, non... Solo tu lo puoi sapere, solo tu puoi sapere cosa sbagli Ci sarà una cosa che sbagli più di ogni altra cosa, i tiri, le parate, i clear I challenge, l'uno di uno, ci sarà qualcosa che tu sbagli maggiormente Quella roba lì devi migliorarci, quella roba lì Facendo allenamenti personalizzati, io purtroppo non guardandoti, non vedendoti, non avendoti mai visto giocare, eccetera Non posso dirti nulla Per questo, oh, per questo, tra i più onesti, cazzo Dove chi ha il prime, chi si sub sul mio canale, ha pure un allenamento personalizzato creato da me In mangio a ciò che sbaglia maggiormente Alla fine, se non vi guardo, vi posso dire fate 1v1, ma poi sta, voi Purtroppo più specifico di così non posso essere Non... dovrei vedervi e tutto Ah, ok, need boost, quindi sono in regola numero 1 Ma questo me lo scopo in 1v1 Inutile che fai così, ti scopo tanto Ma non mi serve nemmeno... Parate amici, mi chiamano G... Gigi Dufon Eh, allora devi pagli elementi personalizzati su quello Superate i tiri, principalmente Ah, peccato Vabbè, ti lascio perché tanto sei fortissimo nell'1v1, compagno Vero, 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 bravissimo Rimaniamo in porta Questo ce l'ho Bel tentativo di bump Ce l'hai quasi fatta Perfetto, questo è tutto il tuo, compagno Bravissimo Guarda il muro in porta che ha un istinto sovranaturale Bravo Seguiamo mid, vediamo se c'è passato L'hai tirata in bocca L'hai tirata letteralmente in bocca Girati però, mate Dovresti girarti, dovresti girarti Bravo Proviamo a tirare in porta E fuori Alla, c'è la Archer Prendiamo questo bispa così E evitiamo che la prenda Archer Bravissimo E open Nice Teore da bocca non passa a casa da scuola Ma mica, ma tutti che non passano a casa da scuola Comunque sì, tutto bene, tutto bene Tutto bene Sono così, come dire Così scarso Da essere messo in secondo piano Dietro la scuola A serie Vado io Bella demolizione Sbagliato Tutto calcolato Ragazzi Tutto calcolato Guardate Adesso prendiamo il boost Guardate Lì è la par Andiamo a segnare Ok, mancava un passaggio È a posto limitato Ovviamente Quindi se volete Dovete Apprettarvi C'è scritto tutto in descrizione O nel video Ti ho messo A fianco al post Bella Tutto bene Ti ringrazio Tommy Anche se non ti ho perdonato Tommy Non è che se mi scrivi Bel tiro Allora ti perdono Perdono il tuo patto Dell'assenza Di un bacchione Ok Sto scherzando Buono Non capisco Perché voi mi dite Mi saluti Io vi saluto E poi sparite Basta Sono contento Mi ha salutato Basta Ciao coglione Ciao Tranquilli Tanto Reu Non ha sentimenti Assolutamente no Bella demo Perché sto avendo Questo questo qua Ok Davo il touch Ok Peccato Bravo che ci sei andato E ci stava Bel tentativo Mi saluto E non voglio salutarti io Bene Non capisco il perché Sinceramente Non ha senso Da uno entra Ciao Ok Ciao No entra Mi saluti Saluto Dai Saluto Dai Ragazzi Che cazzo è Ciuta tua Ok Ci ha rice È andato sul boost Fotta e sega Della palla Eh qui sicuramente Non ci posso andare Non ho boost Buono archer Bellissimo tocco Mate Ce l'hai Falesemente bene Nice Again Mica brutta Viscitvezza Boost Proviamo subito Ottimo Hai gol questo Hai gol Ho letto malissimo Il rimbalzo Perché tu Ma quello lì È andato di merda Ok Spieghiamo Lasciamogliela toccare Ottimo Aspettiamo un attimo Quei tocco di questo qui Seguitemi su Instagram Ragazzi Per sapere Aggiornamenti Riguardante Tutte le robe Cioè Questa cosa che non sappiate Del coaching È un po' Mmm Fa sorgere in alto Vuol dire che non mi seguite Su Instagram Vuol dire che non mi seguite Su Instagram Instagram è ultra Ragazzi Fate ancora un tempo A lasciare il follow Ok Come coaching Mi impari In base A quello che Sa fare Eh Lol Che sciocco Sei Fentai Sì Sì Vi do Guardate il gol Madonna Mi è che brutto Mentre Chiudi Chiudo io Allora No worries Guardate il gol Dai parti Mi sono tutto il cazzo Questa è un bel video Su YouTube Intanto Ciao a tutti Amici di YouTube Questo è davvero Un bel video Aspettiamo Mira Vediamo che cosa fa Oh shit Non mi aspettavo Il tocchettino Così Sliso Demon su Taz Ok Ce l'hai vero CRR Sei il numero 1 Bravissimo Rimaniamo qui dietro Lo seguiamo piano piano Close close Buonissimo Flick Aspettiamo Mira Aspettiamo L'operatore Di Rainbow Six Minchia che tocchettino Taz Fuori Ah era in E se non siete ancora iscritti al canale Punto esclamativo Yt In chat Per il link diretto Per potervi iscrivere Molto molto importante ragazzi L'iscrizione A ottobre A ottobre Uscirà un progettino Uscirà una serie Su YouTube Veramente Veramente figa Per spoiler O altre robe Instagram Seguitemi su Instagram Metterò Piano piano In sti giorni Piccoli spoilerini Della nuova Della nuova serie Non c'entrerà Rocket Ovviamente Non c'entrerà Rocket Ok Questo è gol Probabilmente Invece no Ottimo Bello questo tocco di mira Proviamo a rompere il cazzo Questo qui è gol Purtroppo no Oh shit Ho tirato veramente Uno schifo Fakiamo il challenge Prendiamo questo Torniamo subito dietro Tanto questo è il mio Medio Rovevercela Alla grande Invece no Questo tira Gol Buono Chi va Ok Rimago mid Magari riesci a passarmela Vado a demolire Ottimo Vado a tirare prima Palle L'automatico destro E il manuale Vai pure Niente Ok Medio comunque Trovevercela In qualche modo Double patch Ok buono È open Bravo Spamma ok E vota per portettare Mate Cerca di non far gol Bravissimo Bravissimo Così si vincono le partite Ha suon di Voti per portettare Bravissimo mate Era il CSX Contender Ok Allora Peccato Della macchina VV Trove meglio È davvero È davvero Tanta roba Buono 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 Let's go Tagliamo la testa Al toro In caso Potete cambiare Y Per recuperare Fate sempre in tempo A fare una giusta cosa Ci vado io Ok Mate Buono Vado a demolire Basta che non mi vieni addosso Che sfiga Il garage è andato davvero molto male Mate Vuoi venire in attacco Ci dobbiamo far gol in teoria Ok peccato Prendiamo questo boost qua Per evitare che lo prenda Mir Il mio amico deve avercela subito Ottimo Prendiamo anche questo boost qua Cazzo non ha il tiro Gliela passiamo di alarm Il mio mate Tutta tua è open Bravissimo Buona buona Bel tiro Let's go Che la recuperiamo Non so perché è frustrato D'aver sbagliato un open net Quindi Deve votare per il forfeo Oh bellissima parata Cazzo Davvero una nice save Ovviamente fechiamo il challenge Non ci sarebbe mai andato Non l'avremmo presa Buona la parata Prendiamo un po' di paddini Lo seguiamo mid Tanto penso Stefan che a livello di fotocamera Il 13 e il 12 pro Ma alla fine Sia abbastanza equivalente Anzi il 13 Secondo me ha anche marci in più Per il nuovo processore Per L'autonomia Maggiore di batteria In toto In toto secondo me Ok Me due due Bella Buongiorno Tutto bene Nice Continuiamo Demo Riccato Ci stava tantissimo Questo è Oh mio dio Ma è bello Ho bagliato un open net Com'è che si faceva Si porfettava Quando si sbagliava Un open net Tipo Ok percata Prendiamo questo boost qua Il mio mate Vediamo se lasciamo mettere la mid Unlucky Ok aspettiamo il suo tiro Buona Prendiamo il suo tiro Sì anche mid Ci sta Il problema è che non ho tantissimo boost Fakiamo il salto Quindi Il mio mate ce l'ha Abbastanza easy Va dio Hai tempo in realtà Ho fatto un Stavo per fare una Minchiata Di quella Proprio Polamorosa Gliel'ho passata a lui Ottimo Va bene Tanto c'è l'armio mate Fortissimo Perfetto Sai anche lui cosa fare Dove andare Quando andare Buono Let's go Vediamo se esce mid Non riesce mid Buono Hanno comitato Il mio mate Deve riuscire a prendere il boost In teoria l'ha preso Adesso abbiamo un bel controllo Aspettiamo il tocco di cazzo Chiudiamo il Sur reset Perfetto Perfetto questo bump Torniamo il prima possibile Il mio mate P challenge Bravissimo Buono Nooo 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 Nooo